Fashion Inside and Out racconta il rapporto tra la moda, l'exhibition making e il craft, perciò come creare la moda con craft come materia, come trasformazione della stoffa, ma anche come referenza, referenza non solo materiale ma anche concettuale. Stiamo nella piscina Gandini, una piscina abbandonata e così era una strana cosa ripopolare questo spazio con manichini, per quanto non sono umani veri comunque c'è questa associazione e così era un progetto molto romantico immaginare come ripopolare questo enorme e bellissimo spazio. Entrando guardiamo una borsa di Virgil Abloh che è come un epigraph, è come la domanda della mostra. È una borsa che dice sculpture e dice dov'è il concetto, dov'è il rapporto tra oggetto e concetto. Ci sono due Chanel incredibili di Karl Lagerfeld ovviamente dove ci sono più di 300.000 elementi attaccati a questi due silhouette, una cosa incredibile però fatti di materia di legno per esempio e così questa mostra anche parla di trasformazione, di una cosa non preziosa, rimaginato come oggetto prezioso. La mostra non fa la domanda se moda è arte o meno, però guarda al valore intrinsico della moda, non come categoria ma come oggetto e così ignora in un certo senso il dibattito arte-moda e guarda il vestito un'altra volta.